Un violento incendio ha distrutto un deposito di Rotoballe all'interno di una piccola azienda agricola a Villa Alta di Fagagna. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, sono scaturite all'improvviso poco dopo le 9.30 di venerdì 23 agosto e in pochi minuti hanno attaccato e divorato una parte del fieno ammassato all'interno del capanno in lamiera. Nelle vicinanze della pertinenza un furgone e un motocarro Guzzi che hanno subito danni ma per fortuna rimosso in tempo prima che il fuoco potesse provocare conseguenze più serie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco giunte dal comando provinciale di Udine e dal vicino distaccamento di San Daniele del Friuli con una quindicina di uomini al lavoro. Il pronto e decisivo intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme alla vicina abitazione. Non risultano persone ferite o ricorse alle cure mediche. Spento l'incendio si è provveduto alla rimozione delle Rotoballe e alla bonifica dell'area interessata dal fuoco.